Retromarcia della maggioranza e secco no al biodigestore nel comune di Anagni. Il progetto dell'impianto di trattamento di rifiuti nasce nel 2017 con il Partito Democratico alla guida della città, della provincia e della regione, ha dichiarato il sindaco Daniele Natalia. Al momento dell'insediamento della nostra amministrazione la procedura per la realizzazione del biodigestore era già in stato avanzato. Un cambio di passo repentino e inaspettato frutto di profondi ragionamenti e lunghe discussioni, una scelta che lascia dubbi anche all'interno della minoranza. Sono rimasto esterefatto della conferenza stampa del sindaco Natalia in cui ha affermato di essere contro il biodigestore. Esterefatto perché il sottoscritto da circa un anno con l'interrogazione proprio al sindaco Natalia in cui chiedevo l'UMI del progetto dell'impianto di biodigestione e compostaggio. A questa interrogazione non c'è mai stata una risposta. Da un anno ho sollevato questo problema. Lo abbiamo sollevato poi con i consiglieri comunali. Ieri invece apprendiamo che il sindaco dice di essere contro. Lo fa adducendo degli argomenti che a mio avviso sono tardivi, sono poco credibili e soprattutto lo fa non chiarendo una cosa. Al di là della sua polemica retroattiva criticando la passata amministrazione, a me interessa sapere A perché solo adesso ha detto no. B cosa intende fare? Questa è una novità importante. Noi raccogliamo positivamente ma non ci fidiamo e non ci fermiamo qui. Non ci fermiamo qui perché a Danagni c'è un vecchio detto che dice che le chiacchiere il vento le porta via. Per strada prima è le chiacchiere di Natalia e il vento le porta via. Perché in questa stessa sala qualche mese fa il sindaco Natalia sosteneva l'esatto contrario. Sosteneva che il biodigestore era importante per Anagni, era importante per la provincia Frosinone, era importante perché Anagni avrebbe avuto uno slancio industriale, sarebbe tornata al centro dello sviluppo con questa industria di lavorazione e rifiuti. E quindi no, non ci fermiamo a queste dichiarazioni, adesso vogliamo atti concreti. Atti concreti del sindaco, atti concreti dell'amministrazione comunale.